Rimborsi per oltre 15 milioni di euro, 6.200, pratiche già in lavorazione e un altro migliaio in attesa di essere prese in carico. È il bilancio delle operazioni di indennizzo forfettario che sta curando il Fondo Interbancario per i risparmiatori di Banche Truria, Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara. E proprio riguardo ai rimborsi forfettari all'80% è intervenuto anche il Codacons. Rappresentano solo l'ennesima ingiustizia, danno dei risparmiatori, spiega il presidente Carlo Rienzi, solo pochi fortunati potranno avvalersi infatti degli indennizi e una larga fetta di obbligazionisti sarà tagliata fuori pure in presenza di un danno identico per tutti. Proprio per questo l'associazione, dopo la chiusura delle indagini da parte della procura di Arezzo nei confronti di 30 direttori di filiale dell'ex banca Truria e in vista dell'apertura imminente del processo penale, lancia una maxi costituzione di massa, invitando tutti i risparmiatori della banca a intervenire nel procedimento come parte offesa al fine di ottenere il risarcimento danni dai soggetti che hanno piazzato i titoli a rischio ai piccoli investitori. Intanto, a distanza di un anno dal decreto salvabanche, martedì 22 novembre i risparmiatori azzerati delle quattro banche poste in risoluzione si ritroveranno di fronte alla sede di Banca d'Italia per una manifestazione di protesta.